genuani si resta il podcast settimanale dei genuani che non sono potuti restare a Genova ma che sono comunque rimasti genuani genuani si resta perché questo titolo si dibatte spesso sul genuani si nasce genuani si diventa eccetera eccetera e questo dilemma vale per tutte le tifoserie beh questo podcast vuole essere un punto d'incontro di chi genuano è ma che per svariati motivi vive a migliaia di chilometri della sua squadra e nonostante tutto continua a coltivare la sua passione con la medesima intensità ogni giorno ogni weekend ogni volta che la sua squadra gioca a qualsiasi ora del giorno e allora genuani si nasce si diventa ma soprattutto si resta saremo qui ogni settimana come seduti al tavolo di un bar prima o dopo una partita del nostro grifone a commentare senza la pretesa di rappresentare nessuno ha solo l'ambizione di creare un contenitore per tutti i genuani sparsi per il mondo sarà solo un bar lontano migliaia di chilometri come diceva annunzio filogamo cari amici vicini e lontani non siamo allenatori né direttori sportivi né giornalisti e tanto meno ex calciatori al limite ex mediocri pallonari ma siamo tifosi quello sì e spesso nemmeno troppo obiettivi beh non aspettatevi troppo obiettività in questo podcast faremo del nostro meglio ma non garantiamo nulla giovedì 24 febbraio settimo episodio di genuani si resta e il podcast dei genuani sparsi per il mondo e questa sera come preannunciato torniamo negli Stati Uniti saluto subito Matteo da New York ciao Matte ciao Stefano siamo orfani di Francesco quindi abbiamo giochiamo in inferiorità numerica Francesco è in vacanza Santo Domingo e forse si collegherà ma a quanto pare il collegamento non è non è molto facile e andiamo subito a presentare l'ospite della serata 47 anni genovese ovviamente nato a Genova nella zona di San Martino e genuano quindi dalla nascita genuanità trasmessa dalla sua famiglia ma dire su tutti suo fratello maggiore prima partita del Genoa lo stadio non se la ricorda però si ricorda che andava sempre con suo nonno dopo il pranzo domenicale ed entravano in tribuna perché suo nonno era un grande invalido di guerra mentre suo fratello andava già nella nord e spariva prima del pranzo e anzi non mangiava proprio per la tensione e giocatore preferito signorini e giocatore preferito di tutti i tempi Diego Armando Maradona si definisce un genuano focoso e dice di aver pianto di gioia e di sperazione allo stadio un po' come tutti noi però il fatto di essere uscito dall'ambiente Genova e anche l'età hanno contribuito a farlo diventare un po' più moderato non ha giocato a calcio se non con amici non ti fa altre squadre non potrebbe così dice però ringrazia il Barca e ammira il Liverpool e il Boca hobby e passioni tennis e cucina è sposato con un'americana che chiaramente non sa niente di Genoa e non ha figli se non uno a quattro zampe che sta cercando comunque di far diventare genuano da New York Riccardo detto il cinese Sallo ciao Riccardo il quale vuole presentarsi a suo modo Genuani e Genuane this is your captain speaking on behalf of Genuani si resta welcome on board ciao Gagge ciao Marte ciao Riccardo e ciao Francesco a Santo Domingo ecco il motivo della presentazione lo spieghiamo subito Riccardo è un pilota di aerei e ora poi quindi ci racconterà tanti aneddoti e tante belle cose iniziamo però subito da farci raccontare da Riccardo un po' di come ci è finito a New York lui ha detto che il motivo del trasferimento negli Stati Uniti è stata la moglie non so se era in cerca di moglie oppure si è trasferito perché era moglie americana però insomma raccontaci un po' perché so che hai viaggiato parecchio e come sei arrivato a New York e come sei arrivato poi in contatto con i ragazzi del Genoa Club New York eccetera eccetera guarda partiamo dal contatto che è stata una partita vista all'allora pizzeria di riferimento nostro dove io sono andato con mia moglie e con mia nipote che era venuta a trovarmi qua a New York lei anche lei genuana sfegatata e quindi eravamo andati a questa pizzeria e nel tavolo accanto ho visto un gruppo di gente con la maglietta del Genoa e quindi chiaramente abbiamo cominciato a parlare che si è presentato come il presidente del Genoa Club New York e quindi lì è nato così il contatto come mi sono trasferito a New York? io ho fatto 19 anni, quasi 19 anni come pilota in aeronautica militare e nell'ultimo incarico che mi hanno dato mi hanno assegnato al presidente della Repubblica che allora era napolitano quindi una volta assegnato al presidente mi hanno dovuto addestrare su un nuovo aeroplano che era l'aeroplano di backup del presidente e mi hanno mandato a fare questo corso a New York in realtà a New Jersey aneddoto particolare è il posto dove in questo momento sto lavorando quindi io nel 2013 venni come cliente e una sera usci con i miei amici a Manhattan è stato il mojito più caro che potessi offrire perché poi mi è costato un matrimonio quindi colpo di fulmine beh sì, diciamo che c'è stata intesa da subito chiaramente poi da lì a pensare di fare una cosa stabile che nessuno se lo poteva immaginare anche se sai, queste cose qua fai un passo dopo l'altro quindi all'inizio sei quasi un turista che è in Italia che viene a New York poi ho invitato mia moglie e subito in estate a venire mia moglie adesso allora la mia ragazza che avevo conosciuto a New York l'ho invitata a venire a passare le vacanze in Italia e quello insomma ha cementificato e poi da lì abbiamo cercato di vederci più o meno una volta al mese anche se è stato complicato per me che chiaramente ero ancora in Arronato io avevo degli incarichi particolari quindi non potevo lasciare per più di troppo tempo però siamo riusciti a farlo e poi una cosa dopo l'altra è diventata serie quindi insomma l'impegno per poterci vedere eccetera è stato maggiore dove eri localizzato diciamo dove era la tua base operativa? l'ultima gli ultimi otto anni eri passati a Ciampino, Roma dove avevo appunto come nella flotta di Stato e voli sanitari prima di quello ho fatto quattro anni e mezzo a Pisa all'aerobrigata 46esima brigata aerea e prima ero negli Stati Uniti per fare il mio pilot training prima ancora quattro anni in Aeronautica Militare scusate in Accademia Aeronautica in Aeronautica Potsuola e poi hai avuto una parentesi come pilota di aviazione civile poi ho lasciato l'aeronautica sono entrato nel mondo dell'aviazione commerciale breve parentesi in Cina inizialmente dove sono entrato mi hanno fatto un contratto io nel frattempo ho lasciato l'aeronautica basato su questo contratto poi hanno cambiato idea dicendo no i militari non li vogliamo più e quindi dopo due mesi che avevo lasciato l'aeronautica dopo quasi 19 anni mi sono trovato senza lavoro mi sono diciamo riciclato così diciamo così in Polonia è stata una bella esperienza mi piace tantissimo la gente il posto ho ancora tanti amici e dopo di quello mi sono trasferito per circa sei mesi non ho lavorato negli Stati Uniti avevo un'offerta di lavoro che si doveva concretizzare al momento che avrei dovuto ottenere al tempo la green card però non è arrivata la green card l'opportunità di lavoro è sfumata e quindi mi è arrivata un'offerta di nuovo dalla Cina e quindi sono ritornato in Cina fino a covid cambio di compagnia aerea ultimi dieci mesi disastrosi con qualità di vita e fino a che ho deciso appunto che l'esperienza cinese inizialmente bella e ultimamente disastrosa era alla fine quindi mi sono trasferito negli Stati Uniti e ho ricominciato inizialmente a insegnare come istruttore e recentemente a tornare a volare ecco gli Stati Uniti hanno uno degli eroi dell'aviazione civile Captain Sully e noi abbiamo Captain Sully esatto speriamo di non fare la stessa fine però no beh voglio dire non te lo auguro un atterraggio del genere però voglio dire se la sbrigò in maniera egregia tra l'altro lui portava lo stesso aeroplano che ho portato io dai miei dieci passaggi che tra l'altro l'aeroplano è qua al museo qui vicino all'aeroporto di Charlotte perché credo che il volo fosse per Charlotte tra l'altro mi pare di ricordare comunque quindi insomma sei stato in tantissimi paesi e in tutti questi paesi hai portato la tua genuanità raccontaci un po' come eri genuano in Cina rispetto a come sei genuano negli Stati Uniti ecco come ti organizzavi la genuanità mi accompagna da sempre la genuanità si resta questo è insomma seguendo le noti del podcast mi segue da quando ho lasciato casa e sono entrato in Accademia Aeronautica quindi nel 96 come dicevo prima ho fatto fra Napoli e poi Stati Uniti e poi Pisa e tutti i rischieramenti fatti nelle varie poste del mondo quindi le esperienze questo solo per quanto riguarda l'Aeronautica quindi tutte le esperienze in Iraq in Afghanistan in Africa la genuanità era sempre un pezzo presente sia a livello di conversazioni che a livello di indumenti perché c'era sempre qualcosa che mi rappresentava come genuanità e quindi tant'è che ancora adesso alcune persone che ho conosciuto nella mia attività di volo che magari non abbiamo stabilito una vera e propria amicizia però sai con i social media sei sempre in contatto mi riconoscono sia dal nome perché ormai per loro sono sempre il cinese e dal fatto che sono tifoso genuano quindi è stata una lunga battaglia portare la genuanità in giro per l'Italia prima e poi per il mondo poi guarda mi ricordo stavo ad Abu Dhabi l'aeronautica e andavamo una missione in Iraq naturalmente andavamo a Khalil nella parte sud della parte sud dell'Iraq e mi ricordo una delle sveglie all'alba e e dovevamo fare il briefing di intelligence cioè dovevamo fare il briefing e dirci insomma qual'era la situazione della minaccia però c'era Napoli-Genoa quindi dovevo conciliare le due cose e quindi insomma ero riuscivo a sentire la telecronica di Genoa di Napoli-Genoa tra l'altro gol per il nostro Buelli 2 Matteo gol di Leon su punizione e quindi riuscivo insomma è sempre stato un incastro notevole e sono sempre stato riconosciuto insomma e questo mi fa piacere Riccardo il cinese il genuano è sempre stato così ecco quando eri in Cina come seguivi il Genoa? le fanno vedere le partite? le partite alcune le fanno vedere chiaramente quando stavo a Nanjing sarebbe Nanchino loro erano tutto pro-Inter perché la proletà dell'Inter veramente non era da là e tutto ciò che era a livello alto di serie A veniva trasmesso Genoa raramente se non appunto durante gli incontri contro le bue e quindi niente mi toccava vederlo in siti piratati dove ho infettato il computer in maniera improponibile chiaramente poi con tutte le restrizioni del firewall cinese avrei dovuto fare insomma i vari collegamenti col VPN che poi si interrompeva insomma anche lì devi essere veramente matto come noi per andare contro tutte contro le difficoltà che ci mettono in mezzo una domanda tu avevi postato un video che era diventato diciamo mitico nel gruppo dove cantavi la famosa canzoncina Cocco me mai dopo la famosa diciamo quella patetica partita di Firenze con i sandoriani che aspettavano di farci il funerale ma fortunatamente non ce l'avevano non non ce lo fecero eri su un volo dove eri diretto da dove stavi da dove venivi e dove eri diretto quella è una domanda che non mi ricordo però stavo in Cina al tempo da dove a dove sicuramente era un volo domestico quindi era entra Cina il posto di origine di atterraggio non lo ricordo però mi ricordo benissimo il video anche perché si è diventato diciamo virale così insomma nell'ambito quasi distretto ma mi ricordo mio fratello mi contattò che un suo se non sbaglio o un suo collega o il suo capo in banca gli fece vedere il video e dicevano questo è tuo fratello quindi gli era arrivato in banca il video tramite altre direzioni non quella di mio fratello ed ero io quindi penso che insomma anche a Genova sia girato abbastanza anche perché era simpatico ero proprio sul seduto durante il volo molte persone facevano quel video allora pensavo che insomma farlo nella postazione del comandante fosse una cosa simpatico era stata una cosa mitica perché comunque pilota di un aereo esatto che fa quella con la canzoncina la statua in realtà guarda ne avevo fatte diverse poi avevo deciso di mandare quella avevo fatto una in cui simulavo la chiamata radio con con la torre di controllo e simulavo la torre di controllo mi chiedeva ma allora il funerale ci fa no guarda il funerale purtroppo non si va più roba del genere avevo fatto diverse scene beh potevi fare un annuncio in cabina in cabina sì ma il problema è che là l'italiano figurati l'inglese non lo capisce nessuno speriamo di di poterlo ripostare questo video a fine stagione sarebbe guarda sarebbe molto molto bello vorrei fare un altro molto molto volentiero ma ne farà qualcosa farà qualcosa altro una domanda che volevo fare allora tu sei sei un pilota quindi hai guidato anche nel senso anche aerei presidenziali se tu dovessi scegliere preferiresti guidare l'aereo che riporta il Genoa a casa dopo la vittoria della Champions League attenzione Champions League ottenuta non vincendo lo scudetto oppure preferiresti guidare l'aereo che riporta il Genoa a Genova dopo una trasferta al sud in cui c'è stata la matematica vittoria dello scudetto questa ma le studia così le studia da casa la gadget queste domande credo di sì non sono preparate e da quando abbiamo iniziato il podcast ho detto se invitiamo il cinese io gli faccio questa domanda sarà una stronzata no no il dubbio la domanda è se tornare indietro con la Champions League senza aver vinto lo scudetto eh sì perché altrimenti mi potresti dire ok abbiamo già vinto lo scudetto quindi la stella che se no arriviamo in quarti arriviamo in quarti vinciamo la Champions League oppure tornare indietro con lo scudetto tornare indietro non so da Napoli trasferta a Napoli che quindi si ritorni in aereo direi scudetto cioè la stella per te avrebbe più valenza mettere la stella che mettere la stella anche perché perché beh noi siamo siamo internazionali quindi chiaramente per noi che viviamo fuori la la Champions ha un valore più forte no perché comunque con i nostri amici o colleghi internazionali se vogliamo menarglielo un pochettino un pochettino avremo qualcosa insomma di appunto internazionale però il lo scudetto la stella se non fosse per il decimo scudetto probabilmente scegliere la Champions ma essendo la decima e e la stella probabilmente sceglierei quello tu? beh penso anch'io eh onestamente sì eh faccio lo stesso ragionamento essendo quella della stella eh tra l'altro ti darebbe comunque la possibilità di giocare in Champions ma poi chissà non vorrei mica pensare che io il Genoa vince lo scudetto la Champions e non mi ubriaco quindi mi verrebbe più comodo fare un volo più stretto cioè più corto in Italia piuttosto che farlo un internazionale capito? no che poi magari mi contatto mi dico ah ma tu sei pilota che vola e ubriato no 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 ragazzi qua mettiamolo in chiave era una battuta va bene però sicuramente diciamo che dormirò poco e allora preferisco fare un volo più corto che un volo più lungo diciamo che tornando al reggere il cuore a parte a parte l'ubriacarsi non so se da una gioia del genere il nostro cuore riuscirebbe a reggerla ecco perché alle delusioni ormai siamo come su si è abituato si è abituato a molto peggio il nostro cuore penso di sì dicevo tornando proprio alla tua attività di pilota a me è successo proprio recentemente che durante l'ultimo in Fausto derby ero su un volo rientravo mi pare dalla West Coast o forse da Salt Lake City non mi ricordo e chiaramente avrei potuto acquistare la connessione internet e quantomeno avere gli aggiornamenti dalla chat su come andava il derby ma ho preferito chiudermi in un silenzio anche perché forse subodoravo un attimino il collegamento ti sarà capitato di dover essere ai comandi ma di avere qualche partita importante immagino che in cabina abbiate internet come si vive? allora dipende dall'aeroplano l'aeroplano che porta adesso essendo un aeroplano di aviazione generale quindi insomma per voli privati ha la capacità di connettersi a internet quindi mentre sono in volo chiaramente per lavoro hai la possibilità di mandare email controllare eccetera quando stavo in aeronautica non non esisteva però c'era la mitica frequenza adf quindi io con le frequenze c'erano alcune frequenze a seconda della stagione dell'orario della mattina della sera e riuscivo a collegarmi con la radio Rai quindi sentivo tutto il calcio minuto per minuto in volo che vuol dire era era tantissima e anche con una bella qualità audio devo essere sincero e in Cina chiaramente la frequenza radio Rai non c'era internet non c'era quindi quando stavo in volo non c'era possibilità di aggiornamenti se non appunto appena atterrato accendere il cellulare e vedere quali erano le notizie però quando stavo in Cina durante il volo non c'era non c'era interferenza una sofferenza quindi una grande sofferenza sì diciamo che qualche volta quando atterravo magari pensavo anche ecco meno male che non l'ho sentita che sono stato due ore in pace eh sì quindi possiamo dire che Riccardo ha una certa familiarità con i 777 ma magari in questo caso più i Boeing però questa battuta eh tremenda e mi richiama un aneddoto invece Riccardo fu colui che lanciò la bomba nella nostra chat verso fino a fine agosto primi di settembre riportando un messaggio credo di suo fratello nel quale appunto annunciava una trattativa molto seria addirittura chiusa e da parte di della precedente proprietà con un gruppo che forse al tempo non si sapeva neanche che fosse americano ma un gruppo comunque forte nel settore dell'aeronautica ehm aerospaziale si parlava insomma poi e un paio di giorni dopo poi anche i giornali riportarono questa notizia quindi io non so che agganci abbia lui che fonti abbia lui però c'è da ricordare che fu lui a scatenare questa 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 bomba questa grande notizia che ovviamente fu accolta e si iniziò già a programmare il viaggio dalla statua alla libertà questo e quell'altro come come arrivò quella soffiata le sai le source non vengono mai rivelate no? come dicono quelli bravi il era talmente tanta la voglia di vedere la vecchia presidenza sparire che qualsiasi soffiata vera o non vera la investigavi cercavi di capire insomma con un cross check di informazioni e di contatti quella poi si è rivelata corretta il fatto che che fossero legate alla all'aerospaziale al settore all'aerospaziale me lo ricordo poi ci è rivelato non vero nel senso che comunque se loro sono inseriti come investimenti nell'ambito di radiazione però non non è la loro fonte insomma è un investimento che qua non è la loro fonte primaria la gioia è stata manco velo dito nel senso io da devo essere sincero qua lo ammetto le mie colpe io al tempo di preziosi ero penso come la maggior parte chiaramente pro preziosi ma quando ho cominciato i primi tumulti contro preziosi io lo difendevo perché rispettavo il fatto che una persona comunque ci mettesse i soldi mi aveva mi aveva abbindolato pure a me e quindi quando poi mi sono rinsalito e ho capito che personaggio sono diventato dall'altra parte quindi sono entrato completamente contro la presidenza preziosi e quindi per me quando sono arrivati 777 è stato stato un giorno bellissimo ed è per questo che forse con alcuni del Genoa Club New York condividiamo il fatto che probabilmente questa retrocessione quest'anno arriverà diciamo lasciamo le percentuali a Matteo ma chiaramente sono più le chance di retrocedere che di salvarsi ma retrocedo col sorriso perché mi sono liberato di 71 come dicono a Napoli e ho ritrovato l'orgoglio nel campo che avevamo perso all'epoca dell'ultimo Ballardini ed è sicuramente il periodo cercente quindi io le soffiate la sorso non la posso rivelare perché magari mi viene comodo in futuro ma quel giorno lì me lo ricordo con estrema con estrema gioia e a proposito di quell'anedoto sì il casino che adesso ogni volta che lui dice nella chat ragazzi infatti stavo dicendo quello stavo riportando quel secondo anedoto o una sorpresa o una notizia panico panico è successo un paio di giorni un paio di giorni fa se vuoi raccontarlo un paio di giorni fa e alla fine che cos'era un video dove sto disgraziato qui dopo averci fatto stare in in ansia per un'ora perché pensavamo non so che avesse qualche soffiata mettiamo sui cugini o che ne so qualche qualche svincolato non so che prendevano qualche fenomeno che nessuno che nessuno conosceva questo disgraziato qua cosa fa ti posta un video dove è a Princeton in New Jersey dove l'unica donna del nostro del nostro club possiede una una focacceria un bistrò chiamiamolo così e sto disgraziato qua con sta slurfa di focaccia genovese proprio perfetta con uno sguardo diabolico inizia a mangiarsela quindi queste venti beline scusatemi il francesismo che aspettavano chissà quale quale gossip quale bomba alla Biscardi si sono visti una slurfa di focaccia che ci ha fatto sentire venire tutti male allo stomaco e niente perché lui ha iniziato il prima mattina mandando un messaggio dicendo buongiorno genuani per me oggi è un ottimo giorno però non ve lo posso dire ve lo dirò fra un'ora ecco che allora ha scatenato il panico poi forte della sua credibilità per la notizia precedente tutti hanno iniziato a fare i loro ragionamenti avranno bloccato le retrocessioni la Sandor è fallita tutte queste cose qua invece poi fondamentalmente la sua bella giornata e lo capisco era quella di mangiarsi una meravigliosa slurfa di focaccia da Francesca che peraltro anticipo sarà nostra ospite il mese prossimo per le nostre quote rosa ci sono cose dove non si scherza allora la focaccia per me da quando sono esule dall'ambiente genovese è una una delle priorità assolute della vita ho provato in diversi modi avendo anche la passione della cucina di farla però insomma ecco quella di Francesca è assolutamente a livello di delle più buone bakery di Genova quindi quel giorno lì sapevo che sarei dovuto andare a trovarla sapevo che ci sarebbe stata e quindi già nel momento che mi sono svegliato già la gioia era era già diffusa quindi non potevo tenerla per me volevo dividerla con voi ma poi voi pensate sempre sempre in grande io avevo la mia gioia contenuta poi Gaggio mi ha nominato ha nominato il blocco delle retrocessioni ragazzi voi ci state pensando no no a posto è la tua la tua fonte che ne parla no 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 buttiamo un'altra bomba semmai no adesso purtroppo con i brutti fatti che sono avvenuti di oggi scherzando lasciamo poi alla fine si scherza però non si dovrebbe neanche oggi una delle delle battute che abbiamo fatto nella discussione all'interno del gruppo è quello ah c'è la guerra speriamo che blocchino il campionato ecco lo so non è tanto una bella battuta qualcuno potrebbe come si suol dire dire ma come vi permettete c'è della gente che sta morendo però però al di là dell'Ucraina magari il blocco delle retrocessioni qualcuno se non sbaglio nella chat il Genna Club New York l'aveva insieme nominato come possibilità dovuta all'inchiesta delle delle presvolenze essendo molti coinvolti tra cui quelli là a righe che quindi sono quasi intoccabili per rendere intoccabili loro forse non lo so forse fantasia vedremo vedremo la passione per la focaccia nel gruppo ha anche portato al cambio di un famoso detto sapete che il famoso detto era quello che tira più un pelo di che un carro di buoi nel nostro gruppo tira più la possibilità di assaggiare un pezzo di focaccia che un pelo di buce anche perché vabbè non siamo più in giovine età da cercare fidanzate o mogli quindi un pezzo di stracchino un pezzo di focaccia col formaggio ecco ad esempio io l'altra sera mia moglie turca ha fatto un buonissimo pesto poi abbiamo visto e io ho detto adesso a sti sacchi di patate gli mando la foto che sto per mangiarmi un bel piatto di trenette col pesto ma infatti sono colpi bassi questi che io comunque registro perché come la focaccia a formaggio che qualcuno ha postato qualcuno che fa il vago qualcuno ha postato una foto di focaccia a formaggio strepitosa e confermo avendola mangiata che era veramente strepitosa io segno fino alla prossima poi ma la tua è qualcosa più di una passione per la cucina o sbaglio beh si poteva concretizzare in qualcosa di più durante il periodo di covid quando appunto ero rimasto fuori dalla Cina non sapevo insomma l'aviazione era a terra un sacco di miei amici sono stati licenziati nelle varie compagnie in genere per il mondo e quindi sai c'è stata una fase in cui noi adesso lo vediamo col signor di poi ma il covid era un punto interrogativo clamoroso che non si sapeva come quando se la vita sarebbe tornata come prima e anche che non lo è e come in particolare l'aviazione commerciale si sarebbe ripresa o no o sarebbe cambiata quindi insomma in quella parte lì in cui stupensi va forse il caso di approfittare di questo di questo cataclisma di covid per reinventarsi e ci avevo pensato cucinavo facevo delle foto mia moglie mi ha fatto aprire una pagina instagram c'erano state delle possibilità tramite contatti con alcuni investitori che erano interessati ad alcune idee che ci avevo poi come nel migliore dei film dei slide indoors è capitato che due settimane prima di incontrare questo investitore che era molto interessato ai miei discorsi e alla mia storia sono dovuto partire per ritornare in Cina che a quel momento lì era impossibile dire di no perché era l'unico contratto disponibile nel mio mondo quindi è capitato così e quando sono tornato c'è stata una piccola possibilità di entrare in società con un nemico in una bakery e poi anche lì una piccola sliding doors e alla fine sono rimasto nel mondo dell'aviazione però potrei fare una piccola apparizione in un reality qua in America di cucina una specie di quattro ristoranti il format è tipo quello mi hanno detto vediamo stiamo nella parte di come si chiama non di recluting neanche di scouting ragazzi aiutatemi ormai fra italiano e inglese ho perso qualsiasi tipo di vocabolario capito cosa vuol dire lo screening che devono fare il casting il casting ragazzi quindi vediamo poi vi informerò ma non sono neanche cioè a livelli di Francesca quando l'avrai come ospite e quando i nostri genitori ma io conterrei di andare a trovarla proprio là però spero di uscire live direttamente là assaggi così almeno sentiamo sì lo dovremmo fare video bravo per farvi del male comunque diciamo la verità fra tutti dentro la chat insomma ci diamo da fare col mangiare tu comunque avendo nel senso avendo vissuto in varie parti d'Italia poi essendo in missione in varie parti del mondo tu hai sempre avuto un po' di difficoltà anche a a mangiare il cibo genovese cioè la focaccia ti è sempre mancata la focaccia al formaggio il pesto sì sì io ho ho sviluppato un ptsd come lo chiamano per l'america un post traumatic disorder da mancanza di questi cibi ed è per questo che quando torno a Genova generalmente ci torno per purtroppo pochi giorni è un massacro perché mangio per incamerare i gusti che non posso più incamerare per il prossimo anno o prossimi 8 9 mesi e quindi mangio a livello cioè in una maniera orrenda orrenda in quantità cioè riesco a mangiare tre piatti di trenetta al tè di troffi al pesto con tre atti di focaccia per farmi la scarpetta del pesto e tutto il resto che ci mettete dentro una cosa perché no veramente penso che è come se è l'ultima volta che possa assaggiare quei gusti e quindi cerco di incamerarli il più possibile Continuiamo nelle domande diciamo sulla cucina visto che tu sei un gourmet uno che apprezza molto il cibo a parte la diciamo la cucina genovese la cucina italiana nelle tue esperienze in giro per il mondo qual è la cucina che ti piace di più ecco che guarda proprio perché ho girato parecchio il mondo ho avuto sempre la passione della cucina ho sempre assaggiato qualsiasi cosa che la diciamo la cultura locale offriva sto parlando veramente ovunque quindi anche quando ero in Congo in Gabon cercavo di mangiare quello che era loro in generale se devo dare una cucina che che mi piace qua in America piace molto la cucina messicana è stato un periodo in cui piaceva la cucina giapponese però poi negli anni ho anche modificato perché negli ultimi diciamo dieci anni forse o qualcosa del genere sono diventato vegetariano quindi chiaramente ho dovuto ho tolto dalla lista tutto quello che è legato alla carne quindi mi ricordo uno dei miei ristoranti preferiti era il libanese per dirti però chiaramente vai lì e non mangi la shawarma o il lamb cosa ci vuole fare il libanese però tutto lo street food che ho beccato in giro per il mondo o anche in Thailandia Indonesia insomma ho apprezzato o in Brasile ho apprezzato ovunque ho apprezzato bene quindi moglie americana moglie americana tu dicevi ovviamente non si interessa molto del calcio però quello che interessa a noi sapere è come ti vede e quando tifi Genoa ecco che animale strano le sembri guarda io ho conosciuto mia moglie nel 2013 ci siamo sposati nel 2015 quindi insomma diversi anni insieme per qualche strano motivo un po' dovuto al fatto che stavo fuori dagli Stati Uniti per buona parte del tempo e per altri motivi in realtà lei non anche adesso non non sa che personalità genuana dentro come esplodo non l'ha ancora non l'ha ancora vista se non sbaglio un paio di volte sto parlando proprio di due volte proprio numeriche in cui per quale strano motivo insomma mi sono acceso e strano neanche tanto strano mi sono acceso e quindi insomma mi ha chiesto ma come fai ma perché è una partita di calcio sai i commenti di persone completamente fuori dal nostro mondo del calcio e dal mondo genuo ma perché ma è solo una partita di calcio ma sarà per te una partita di calcio per me vale mille altre cose quindi è molto complicato ultimamente specialmente dall'arrivo di Blessing e ha riacceso la passione che in realtà avevano gli altri precedenti e la gestione precedente aveva assopita quindi è chiaramente dovuta anche alla nostra distanza dal mondo genova e quindi è capitato ultimamente insomma che ne faccio il briefing proprio come prima di andare in volo faccio il briefing guarda oggi è una partita importante dobbiamo vincere per forza perché quindi dalle due e mezza alle quattro sei gentilmente pregata di lasciare la stanza oppure lasciare l'appartamento eccetera eccetera non mi venire a chiedere perché faccio così non mi venire a dire perché gridi è la mia zona quindi o ci stai dentro e comply with oppure get out of here e quindi ha sempre deciso ha scelto la seconda quindi non c'è mai stato ecco colgo l'occasione per dare una comunicazione di servizio a tutti coloro che hanno una moglie straniera e mi riferisco quindi a voi due che come comunicato nella pagina facebook dei genuali si resta il podcast è adesso disponibile anche su youtube e il grosso vantaggio di youtube è che si può ascoltare il podcast ma si possono mettere i sottotitoli nella propria lingua chiaramente youtube fa una trascrizione ed una traduzione automatica quindi alcune parole chiaramente vengono tradotte in maniera un po' approssimativa però quantomeno c'è la possibilità per chi volesse ascoltarlo sappiamo che dai podcast precedenti che esistono comunque dei tifosi genuani ne abbiamo anche uno a new york che non parla italiano e quindi è un modo per seguire il podcast e per sentire anche quali belinate diciamo ogni settimana e quindi se volete fare sentire ai vostri parenti c'è anche la versione turca non so se Matteo hai avuto modo di verificare se dice qualche castroneria no devo sarà molto difficile ecco però mi farebbe piacere ecco fare una verifica per vedere a che livelli è la traduzione anche di una lingua che non è proprio molto vicina all'italiano ecco ti farò sapere ti farò sapere quando riesco a a mettere mia moglie davanti alla televisione a farle piano piano verificare i sottotitoli e e vedere ovviamente la traduzione nelle varie lingue parte dalla trascrizione dell'audio in italiano e e non è sempre molto precisa e però insomma io ho guardato un po' penso che il senso delle delle conversazioni si capisca ho chiesto a un paio di amici stranieri di provare e vedere se riescono a capire cosa cosa stavamo dicendo cosa volevamo dire sarebbe interessante penso perché comunque ci sono ripeto dei tifosi genuani stranieri e ancora recentemente ne ho contattato uno in Spagna che parla solo spagnolo quindi vediamo se funziona è un altro è un altro mezzo a disposizione parliamo di Genoa eh sì facciamo due domande due di quelle le domande che mi piacciono allora negli ultimi giorni diciamo nelle ultime la scorsa settimana e questa settimana ci sono due due notizie che esulano un po' dalla parte campo una è Pandev una sono le dichiarazioni di Pandev l'altra è la voce che Crescito pare che che sia diretto in Canada volevo sentire su Pandev Stefano mi ha già dato il suo parere la scorsa settimana vorrei sentire un po' il parere di Riccardo su entrambe le cose e il parere di Stefano sulla sulla vicenda Crescito diciamo quindi scusa tu intendi dire le dichiarazioni di Pandev e le future dichiarazioni di Crescito perché sicuramente ci sarà un articolo di qualche quotidiano che andrà a cercare la polemica sicuramente io mi sento di garantirlo lo commenteremo anche più avanti ecco la notizia che Crescito pare che se ne vada in Canada da subito ecco come la è il campionato americano inizia questo weekend quindi allora andiamo in ordine cronologico so come come perché ascolto sempre i podcast quindi so chiaramente l'approccio di Matteo alla dichiarazione di Pandev io come dicevo nella scheda sono focoso certo però nel tempo e quando posso di vedere le cose in maniera più cerco in maniera più equilibrata noi chiaramente i giocatori sono il punto di riferimento per noi quindi quando li esaltiamo puntiamo il dito su di loro quando c'è da attaccare puntiamo il dito su di loro in realtà per me il vero responsabile di una comunicazione del genere è quasi esclusivamente del giornalista pensare che un giocatore è anche un giocatore di un certo di un certo livello con una certa intelligenza rispetto ahimè alla media generale come come Goran non abbia avuto la sensibilità di dire metto il genoa prima di di tutto è un'aspettativa legittima però viene diciamo in secondo piano nel senso una una sensibilità del genere me la me la sarei aspettato dal giornalista e comunque da tutto l'ambiente giornalistico perché se se questo giornalista forse è stato diciamo Sandoriano o comunque per qualche strana ragione voleva far del mare al Genoa l'ambiente comunque lavorativo dubito che possa essere stato esclusivamente Sandoriano quindi mi aspettavo una ancora mi aspetto dalla stampa locale qualche cenno di intelligenza che purtroppo negli ultimi tempi non sta arrivando certo che Pander se avesse detto guardate io ho dei Sassolini da togliermi però il Genoa arriva prima di tutto l'intervista ve la lascio a Sassolini sarebbe stato apoteosi me lo posso aspettare? sì posso aspettarmi tutto però obiettivamente puntare il dito si fa sempre presto non cambia quello che Prande aveva fatto a Genoa non cambia esattamente come il giudizio su Mimmo l'ho scritto nella chat nostra in Genoa Club New York non si dispute il giocatore per quello che ha fatto perché quello non si può togliere nel senso quel buono o cattivo che ha fatto è rimasto sul campo certo l'uomo Mimmo Cricito ha subito un un notevole colpo perché anche il silenzio che sta che sta intorno a questa notizia che permette appunto tutte le le discussioni intorno a una notizia vera o falsa che sia il suo silenzio non fa bene sicuramente non si comporta da capitano a parte che secondo me come l'ho scritto nella lista il mio giudatore di riferimento nella storia rimane Gianluca per mille motivi e quindi per me lui rimane il capitano tutti gli altri sono gente che passa che si mette la fascia che rappresenta bene o male i valori genuani in quel momento storico ma che comunque una volta passato passa e daccia la fascia a qualcun altro mentre Gianluca rimane rimane per sempre con la fascia al braccio Mimmo ripeto il silenzio è assolutamente negativo ognuno a livello personale fa le scelte che vuole ma lui non è solo un giocatore lui impersonificava qualcosa di più lui impersonificava l'identità genuana all'interno di uno spogliatore o comunque di un gruppo di giocatori e mettere la sua scelta legittima prima della esigenza della squadra non lo fa passare insomma come il miglior capitano o il miglior giocatore umano che abbiamo avuto negli ultimi tempi Matteo no su Pandev su Pandev ho già espresso la mia opinione quindi non mi non mi dilungo Criscito aspettiamo aspettiamo l'ufficialità concordo con quello che ha detto Riccardo il capitano quando si parla del capitano del Genua per me appunto è il numero 6 è già Luca Signorini il capitano o altri giocatori non certo non certo Criscito io adesso sono ancora avvelenato dall'epoca preziosi quindi tutto quello che mi ricorda diciamo l'epoca preziosi e va via mi fa felice sinceramente credo che Criscito a livello tecnico pur rispettandolo non possa dare più di tanto quindi ecco per me vada pure non non lo rimpiango lo rispetto comunque ha dato qualcosa al Genua non lo contesto non mi tocca più di tanto ma come ho detto le scorie dell'epoca di preziosi tutto quello che mi ricorda diciamo preziosi se si leva dal Genua non mi fa che felice forse sarò poco ma invece come la vedete voi questa diciamo dal mio punto di vista sorpresa che manchi un giocatore di riferimento ora al di là del capitano con la faccia al braccio che scende in campo ma sto parlando dietro le quinte cioè nello spogliatoio quello che racconta punta e fa da quello che era prima quello che arriva adesso in realtà lui con questa mossa si è completamente tirato fuori perché vuol dire che lui come ruolo dentro lo spogliatoio non ce l'ha ma sì perché lui probabilmente non ha mai avuto quel carisma per essere diciamo il collante tra il vecchio e il nuovo ma come ho detto il vecchio era una cosa era una cosa avvelenata quindi tagliando tagliando il passato non si può togliendo diciamo tutte le radici preziosiane dal Genua non si può che far bene quindi diciamo come 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 giocatore che rappresenta diciamo la genuanità adesso all'interno dello spogliatoio c'è rimasto Sturaro che non sarà un fenomeno però si sta comportando da Genuano perché nelle quattro partite con Blessing pur non non facendo chissà che però comunque non ha mai tirato indietro la gamba è sempre stato ecco non ha fatto danni quindi però ripeto secondo voi la dichiarazione di Sturaro nel post salernitana era una frecciata a Cricito o no? non credo beh qualcuno l'ha letta così io non lo so io l'ho vista l'ho vista poi sai l'ho vista come una frecciata forse a qualche giovane giocatore perché ad esempio con con la salernitana ho visto l'entrata di Cambiaso di Rovella di Melegoni non mi è piaciuta sinceramente non sono entrati con la con la garra che forse era richiesta per una parte del genere e diciamo una delle interpretazioni che potesse essere diretta a loro non so non so se diretta a Cricito sinceramente non Cricito dopo dopo Spezia aveva fatto aveva fatto quel messaggio su Instagram che io l'avrei evitato sinceramente anche lì facciamo i fatti facciamo più fatti e meno parole esatto i fatti sono fare delle belle prestazioni sul campo fare dei punti fare dei messaggi su Instagram su Facebook su qualunque social network alla fine non porta punti al genere ecco infatti poi alla fine la centralità rimane il Genoa quindi tutti gli altri insomma se vogliono rimanere rimangono se vogliono passare grazie di quello che avete fatto next se a me interessa quello che succede sul campo è il beneficio che riceve il Genoa a me se per beneficio del Genoa devi tagliare col passato trattare dei presunti genuani anche male ma alla fine quello che conta è il Genoa punto ecco ecco la classifica del Genoa il bilancio del Genoa il nome Genoa che deve tornare ad essere rispettato da tutti in Italia e in Europa cosa che durante la gestione preziosi non anche negli anni migliori comunque noi eravamo quelli della valigetta ecco a me sinceramente mi fa male essere trattato essere considerato la squadra degli impostori la squadra che compra le partite il marcio nel calcio la squadra che fa i conti che fa le plusvalenze finte per aggiustare i conti che non paga le tasse enough come dicono qua enough is enough quindi sì io credo che il discorso sia poi legato al fatto di credere o meno che esistano ancora delle bandiere io vedo anche sui social ma anche nella nostra chat è forse una questione anche generazionale noi siamo un po' più anziani ormai a questa cosa delle bandiere ci crediamo proprio poco ecco Pandev qualcuno l'ha definito una bandiera io non lo so se sia una bandiera Pandev per me una bandiera è uno che quando è nel pieno della sua carriera ha la possibilità di andare ad un'altra parte fa una scelta di vita e resta a vestire la maglia del Genoa e ne abbiamo visti pochi e forse oggi nello spogliatoio è l'unico che può veramente insegnare qualcosa è Marco Rossi che è quello che ha vestito la maglia del Genoa in serie C in serie B in serie A in Europa ha vissuto retrocessioni promozioni quindi sa cosa vuol dire sia quanto è importante vincere con quella maglia e quanto è doloroso perdere o retrocedere con quella maglia e gli altri lo stesso Sturaro sì e no nel senso adesso sicuramente ha i galloni da capitano però prima mi sembrava anche uno di quelli che forse faceva anche meno di di Crescito nello spogliatoio Crescito non credo che sia mai stato un leader aveva la fascia da capitano per via delle 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 sue esperienze nel Genoa eccetera eccetera ha fatto un po' una scelta di vita anche lui sicuramente si diceva che quando rientrato dalla Russia potesse andare anche a giocare in altre squadre ha scelto Genova e lo ringraziamo ha avuto rendimenti altalenanti quest'anno forse era l'anno migliore e tanti piccoli infortuni quelli ci stanno però ripeto se deve andare vada nel senso non mi strappo i capelli non mi strappo i capelli sia in discussione quello che si parla è la la tempistica cioè quando sì assolutamente ma sai quando forse ti rendi conto che tanto non fai più parte del progetto magari gliel'hanno anche detto del progetto anche nei prossimi mesi magari gliel'hanno anche detto guarda che tanto davanti a te c'è Cambiaso e poi è rientrato anche Ziborra e centrale in una difesa 4 non ti ci vedo quindi non lo so se vuoi andare vai perché tanto a quel punto lui dice sì andarmene adesso è un po' scappare ma tanto anche restare non potrei contribuire in nessun modo alla salvezza e fa una scelta di vita ha i suoi anni gli presentano un contratto dalla Madonna qua a Toronto magari viene a vincere qualcosa che ripeto è sempre un niente perché poi però voglio dire sai fine carriera anche alzare qualche trofeo magari schifo non fa quindi se succederà adesso o sicuramente a giugno pace come dicevi tu Matteo Criscito è sempre stato visto un po' come uno dei uomini di Preziosi e credo di sì perché più volte si è detto che comunque anche di recente fosse ancora in contatto telefonico con Preziosi però c'è da dire che l'estate scorsa no l'estate scorsa gennaio scorso mi pare era stato venduto alla Fiorentina e fu lui a rinunciare a dire no resto a Genova quindi Preziosi da quel punto di vista l'avrebbe volentieri sbolognato quindi le verità non le sapremo mai perché poi sono quelle cose che tanto non vengono fuori e sicuramente c'era una situazione e Criscito nella conferma come Pandev come tanti altri e che c'era uno spogliatoio che era era ingestibile e su questo io mi sento anche un po' di giustificare i due precedenti allenatori che hanno fatto tanti errori ma evidentemente erano a comando di uno spogliatoio che non che non esisteva e uno di questi protagonisti uno di questi protagonisti era Biraschi che quindi Matteo adesso ci aggiorna un attimo su Biraschi cosa sta facendo in Turchia Biraschi è andato a giocare nel Fati Karagumruk che è una delle squadre di Istanbul tanto per far capire è come se fosse andato a giocare nella Sestrese come livello di diciamo di tifoseria forse ancora meno Istanbul hanno tre squadre Fenerbahce Beziktas e Galatasaray poi c'è l'Istanbul che è una squadra del governo che praticamente non ha tifosi e il Fati che è una squadra di quartiere ma anche lì tifosi nulla qualche migliaio forse ha iniziato bene nella prima partita hanno vinto poi si è fatto male in una partita di Coppa partita di Coppa che è diventata famosa perché si sono viste le immagini di Viviano che è il portiere della squadra di Biraschi che stava per congelare sul campo che molti genuani forse hanno anche sorriso perché come ex Sandoriano che generalmente ai derby faceva dei miracoli vederlo congelare sul campo ci ha fatto anche forse sorridere ecco e poi si è si è fatto male e quindi adesso è sparito dai radar assieme all'altro compianto ex Touré che anche lui dopo un debutto con Vittoria è sparito è sparito dai radar sono entrambi infortunati quindi a quello cosa fa Biraschi in Turchia per ora diciamo mezzo schifo dai ragazzi abbiamo parlato di Cricito Biraschi e Touré ma pronostico secco per domani guarda pronostico secco due a due è difficile io cosa spero di vedere segna l'Estienne io spero di vedere un Genoa che come suol dire fa sputare sangue all'Inter cosa che negli ultimi cosa che appunto dalla partita in cui aveva segnato l'Estienne non abbiamo più visto perché ora non mi ricordo mi pare che un anno avessimo vinto con l'Inter che ce l'avevano mezza regalata non mi ricordo l'Inter aveva sbagliato anche un rigore mi pare uno di quegli anni che ci eravamo salvati in maniera schifosa ecco però negli ultimi due o tre anni si sono viste delle partite con l'Inter sia Milano che Amarassi imbarazzanti vai non ci girare intorno pronostico fisso secco due a uno per il Genoa anche io dico due a uno ecco due a due io due a uno voi due e forse l'ho domandato anche nella chat di recente quando abbiamo fatto l'ultima volta due gol col Verona forse no a Empoli la memoria storica di Matteo ci aiuta a Empoli a Empoli è vero a Empoli si siamo andati in vantaggio poi abbiamo pareggiato all'ultimo minuto si perché ora con Blessin al massimo abbiamo fatto un gol con Blessin ma la vita che ne facciamo uno se lo facciamo a Empoli a Empoli a Empoli di Criscito su rigore di Bianchi primo gol in sedia come? con il Verona non abbiamo fatto i due no col Verona in casa sì ma era prima no no Marassi l'ultima volta che abbiamo fatto due gol col Sassuolo col Sassuolo che avevamo fatto due a due mi pare dopo il Verona che aveva pareggiato all'ultimo Vasquez col Verona era stata la prima partita dei 7-7-7 può darsi sì e poi due a due col Sassuolo Marassi ma l'ultima partita a parte caso trasferta che abbiamo fatto due gol è stata con l'Empoli l'ultima partita di Ballardini poi è arrivato Shevchenko praticamente per non so quanto non abbiamo neanche segnato non abbiamo tirato in porta non tiravamo in porta infatti l'ultimo argomento da toccare in tema genua di attualità si chiama Vasco de Gama che tra l'altro è un conflitto di interessi con Cristoforo Colombo se andiamo a vedere però cosa ne pensate di questa operazione e di questo presunto accennato nell'intervista di Josh Wander 7-7-7 Football Group ma guarda potremmo potremmo cercare di essere gelosi perché vogliamo tutte le attenzioni e tutti i soldi di 7-7-7 al Genoa però non è non è realistico in realtà penso che se la vediamo in maniera più razionale non è altro che una ottima notizia è chiaro che poi il giudizio va va rivisto nel lungo periodo o nel medio periodo a seconda di come 7-7-7 Gruppo vuole gestire i vari investimenti in giro per il mondo e quello che noi non vogliamo giustamente è che una volta se dovessero andare non troppo bene le cose l'attenzione si sposta in altri investimenti che magari si sono rivelati più positivi e quindi piano piano si cala e si pari da quanto riguarda il Gena però sono tutte speculazioni il fatto che loro investano e che investano in un'altra squadra di calcio per me è una notizia positiva quindi aggiungerò il Vasco de Gama alle squadre simpatizzanti che per me sono nella lista Matteo concordo concordo con Riccardo l'investimento in una squadra di un altro continente vediamo vediamo adesso se in questo sviluppo diciamo del gruppo football 777 eventuali investimenti in Europa ecco non so se comprassero una squadra nella Premier League inglese potrei iniziare ad avere qualche perplessità perché lì le risorse potrebbero andare dove ci sono anche più ricavi quindi potrei anche pensare che qualche giocatore che viene fuori bene nel Genoa potesse andare nella squadra inglese di Premier League ma finché si tratta di una squadra brasiliana alla fine penso che eventuali talenti che si dovessero sviluppare in Brasile potrebbero forse venire in Italia ecco finché diciamo finché l'investimento è in un altro continente sono tranquillo nel momento in cui iniziassero a comprare delle squadre in Europa bisogna vedere chi compra ecco la cosa si spera che il Genoa sia sempre il top team sia la diciamo il Red Bull Lipsia nel nel 777 Football Network chiamiamolo così sì Vasco De Gama che tra l'altro squadra gloriosa però che in questo momento è nella Serie B brasiliana peraltro notavo che degli investimenti fatti ultimamente a parte vabbè quello iniziale del Siviglia dove hanno veramente una percentuale molto bassa ma da quello che mi è parso di capire comunque il Siviglia ha un nazionariato quasi popolare quindi comunque chi comanda penso che abbia tipo un 18 20% fa specie che nel Genoa abbiano preso il 99% mentre ad esempio già nel Vasco De Gama hanno preso il 55% qualcosa del genere così come i nuovi americani che sono arrivati a Bergamo hanno preso il 45% e invece a Genova hanno preso il 99% che da una parte potrebbe essere un buon segnale perché dici hanno puntato tanto sul Genoa dall'altra fa pensare che l'idea di poter coesistere con la precedente proprietà fosse veramente impossibile ecco fa un po' specie questa cosa appunto che mentre altrove si limitano ad acquisire la maggioranza qui ha proprio preso il 99,9% peccato per quello 0,01 e sono i piccoli azionisti poi bisogna vedere sai anche le leggi nei vari paesi può darsi anche cosa ne sappiamo in Brasile che una proprietà straniera non possa prendere più di un ci sono anche mille motivi grazie a Dio che hanno preso il 99% nel Genoa perché immaginatevi un po' dover convivere con preziosi credo che siano già i punti che lo vorrebbero strozzare dopo dopo un paio di mesi in cui sono venuti fuori indici di liquidità rapporti strani con i procuratori immaginatevi un po' se ci fosse una cogestione Dio ci scampi ma vi rendete conto ora non so quanto tempo abbiamo ma vi rendete conto che noi nella nostra comunità siamo quasi tutti se non tutti quanti anti preziosiani convinti però nel mondo invece internet nel mondo social io leggo della roba che mi pizzico per capire se sono se sono ancora reale o no perché c'è gente che dice ah ma 15 anni ci ha tenuto in A un momento che lascia forse torniamo in serie B quindi preziosi era meglio di questi cioè c'è gente che fa ancora questi ragionamenti io non mi capacito beh con preziosi lo avevamo capito lo sapevamo tutti che la serie A era garantita come lasciavo perdere però al tempo stesso tanti e io mi metto fra questi ancora l'anno scorso dicevo tutto sommato se se andare giù serve a a cambiare qualcosa e a tornare ad essere una squadra normale una società normale una squadra di calcio che scende in campo per provare a vincere delle partite e con qualche obiettivo nessuno ha delle grandi pretese però con qualche obiettivo ben venga anche questo questo passo indietro però poi quando è il momento di farlo ci sono quelli che vedono la serie B che come come una specie di fallimento la serie B è una categoria difficile su quello non ci piove e non è più la serie B di qualche anno fa però è sempre un terno all'otto però ora non lo so forse l'alternativa qual era? L'alternativa era rimanere con con Preziosi tutta la stagione e poi forse fallire io penso che questa potesse essere l'unica alternativa Matteo? Io non voglio essere troppo ottimista ma la serie B noi purtroppo siamo siamo pessimisti perché storicamente ogni volta che siamo scesi in B e parlo parlo da quando io seguo il calcio io non vado a cercare le statistiche del 1937 perché non non me lo ricordo neanche non c'ero neanche però gli anni io ho visto due retrocessioni del Genoa in serie B nel 1900 così era 83-84 diciamo Eloi e la famosa retrocessione del 95 Firenze in cui per ritornare in serie A ci sono voluti la bellezza di una volta sei anni cinque anni e dal 95 fino al cos'era 2005 poi vabbè è successo il patatrac quindi più di dieci anni ecco noi abbiamo questi tarni nel cervello quindi pensiamo cavolo andiamo in serie B ci rimaniamo almeno dieci anni io sinceramente quando vedo una serie B dove Rodrigo Palassio grandissimo giocatore ma ha 40 anni quando si regge ancora in piedi dal bianco oppure una serie B dove un Sabelli è il miglior terzino destro o la Padula fino a che non è stato messo fuori rosa nel Benevento aveva segnato dieci gol in cinque partite ragazzi se Blessing rimane come allenatore e se continuano in un progetto di costruzione di squadra e se continuano ad investire secondo me il prossimo anno in serie B sempre che ci andiamo non si sa mai dovremmo tocchiamo i ferri quello che volete dovrebbe essere una risalita immediata spero ma ci penseremo l'anno prossimo siamo ai saluti ragazzi ci penseremo e non è detto che ci penseremo perché rimaniamo positivi non si può mai sapere le bagasce in mare ogni tanto cadono ecco quindi cerchiamo di rimanere positivi domani sera c'è abbiamo la partita con l'Inter speriamo di vedere una bella prestazione puoi vincere sai c'è l'arbitro c'è il blasone dell'Inter ci sono i i giocatori fortissimi dell'Inter però una bella prestazione e non si sa mai lo Spezia ha vinto a Napoli e a Milano non tirando in porta capitasse una volta anche a noi speriamo siamo ai saluti allora innanzitutto volevo ricordare che la settimana prossima torniamo in Europa andiamo in Spagna e nei prossimi giorni pubblicheremo sulla pagina il programma del prossimo mese dei prossimi quattro episodi detto questo ringrazio Riccardo che è stato un meraviglioso ospite e con tutti i suoi aneddoti non ti abbiamo chiesto qualche aneddoto sul Genoa Club New York ma pare che ad esempio sul Presidente non ci sia nessun aneddoto quindi no non c'è nessun aneddoto poi se non te lo racconta Matteo che lui è la nostra memoria storica eh allora no dobbiamo fare attenzione dobbiamo fare le magliette io lo devo dire a Daniele con le famose frasi cognate da Riccardo eh com'era quella ce ne battiamo il Blessin ma quelle vero quelle sono meravigliose sì ogni tanto viene fuori con dei numeri da trafidio le pubblicheremo le pubblicheremo quindi ancora grazie un Blessin cose del genere ecco grazie grazie Matteo salutiamo Francesco che prima o poi lo rilasciano e lo riavremo con noi spero la settimana prossima e io vi saluto fate pure voi i saluti alla settimana prossima sempre forza Genova ciao ciao a tutti salutiamo il capitano e grande ciao cinese ci sentiamo domani speriamo bene avete ascoltato genuani si resta grazie per l'ascolto e arrivederci alla prossima settimana ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti